Il coinvolgimento del ministro Detasporti apre un nuovo capitolo dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata. Tirato in ballo, Del Rio ha negato di essere vittima di presunti ricatti e ha presentato un esposto alla magistratura per sapere se c'è stato un dossieraggio contro di lui. Voglio la verità, taglia corto lo stesso ministro. Voglio sapere se davvero pezzi dello Stato tramano contro altri pezzi dello Stato. L'ex ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, al termine delle tre ore di colloquio con i PM, si definisce dal punto di vista giuridico persona offesa. Il ministro Guidi ha fatto un errore, non c'è niente di illecito, ma ha fatto un errore e ne va preso atto. In Italia adesso chi sbaglia va a casa, torna a ribadire il premier Matteo Renzi, definendo una barzelletta le accuse che vedono il suo governo come il governo delle lobby. Ma il quartierino, che detta le nomine ministeriali e gli intrecci politico-economici di cui la Guidi parla nelle telefonate intercettate con il compagno Gemelli, portano le opposizioni di nuovo sulle barricate. Questo governo è direttamente collegato con le organizzazioni criminali attacca il Movimento 5 Stelle in conferenza stampa, riferendosi alle fotografie del ministro Del Rio a Cutro con dei mafiosi di cui parla al telefono Walter Pastena con Gemelli. Sono diversi i livelli coinvolti. Al primo posto c'è quello ministeriale, dice Sibili in conferenza. I ministri del governo Renzi si sottraggono al loro dovere, mettendo i loro interessi soprattutto. Ed è davanti all'evidente conflitto di interessi che i parlamentari pentastellati con una lettera pubblicata sul blog di Beppe Grillo chiedono l'intervento del Presidente della Repubblica. Il Movimento 5 Stelle chiede un incontro ufficiale col Presidente della Repubblica Mattarella per parlare del caso Trivellopoli che ha coinvolto il governo. Un caso di corruzione che potrebbe avere anche una portata maggiore di tangentopoli. E' inaccettabile tra l'altro che vengano votate la prossima settimana le riforme costituzionali con una maggioranza e un governo che sono appese a un filo, cioè a una mozione di sfiducia al governo che verrà discussa in Senato il 19 aprile. Per noi assolutamente deve intervenire Mattarella e deve mandare un monito alle Camere affinché venga posticipata la riforma della Costituzione a dopo il voto di sfiducia al Senato. Li querelleremo perché ci sono parole che non possono essere usate, non possono essere usate nei confronti di un partito politico pulito, di migliaia e migliaia di militanti e di amministratori che fanno ogni giorno il loro lavoro. Loro peraltro, il loro lavoro non lo sanno fare, lo hanno dimostrato in quelle poche città che male amministrano. Quanto alle mozioni di sfiducia in Senato, calendarizzate per il 19 aprile, dopo il referendum sulle trivelle e dopo il voto sulle riforme costituzionali, i numeri non ci sono. Il PD ha detto che voterà compatto per respingerle, così come ala di Verdini, numeri però che non preoccupano il movimento. Come dicevo prima, in questi giorni potrebbero esserci sviluppi del caso Trivellopoli, cioè magari altri membri del governo coinvolti e quindi questo potrebbe portare a un disfacimento della maggioranza anche la prossima settimana, o meglio il 19 aprile quando verrà discussa questa mozione di sfiducia. Quindi staremo a vedere, indipendentemente dal risultato, questo è un atto dovuto noi come opposizione, come 5 Stelle, dopo questo caso che ha una portata maggiore di Tangentopoli, chiediamo la sfiducia immediata del governo.